In ballo c'è la leadership del partito. Quello che si vuole evitare è che qualcuno, mettendo sul tavolo tessere e pagamenti relativi, diventi il nuovo proprietario del PD. Al conteggio finale, le tessere registrate dalla Commissione elettorale presieduta da Davide Fragale sono 7.600. Ogni tessera costa 15 euro di ognuna, quindi, oltre ai dati anagrafici, occorre fornire anche la tracciabilità del bonifico. Il regolamento vieta che una sola persona faccia più di un certo numero di tessere. Ecco, appunto, e invece di 3.200 tessere si sanno nomi, cognomi e indirizzi, ma a Messina non c'è traccia dei bonifici. E inoltre queste iscrizioni sono state depositate a Roma. E allora il sospetto è che queste tessere facciano riferimento al deputato regionale Giuseppe Laccoto, che così si appresterebbe a diventare l'uomo forte del PD e a sbaragliare tutti all'imminente congresso. La Commissione ha già chiesto al commissario del PD Ernesto Carbone Lumi chi ha presentato le richieste di adesioni, quando e chi ha pagato. Laccoto al telefono smentisce e aggiunge abbiamo un commissario Carbone che viene da Roma. Le adesioni sono state raccolte da lui, ecco perché sono nella capitale. Io non sono il signore delle tessere, non capisco queste polemiche. Il partito comunque, se vuole voltare pagina, conclude Laccoto rispetto al passato, deve aprirsi.